Due yacht in lavorazione, uno da 36 metri in vetroresina, eredità della vecchia gestione, e uno da 80 metri con le parti in alluminio e in cappannone che andranno a dare forma a uno tra i cinque salotti del mare più grandi costruiti in Italia. Per gli interni la falegnameria è in house. Ecco la palumbo ancona Shipyard Isa, dove da agosto è subentrato il gruppo partenopeo. Poco meno di mille dipendenti negli stabilimenti di Napoli, Messina, Marsiglia, Malta, Tenerife e Monaco. Tra i prossimi obiettivi per Ancona, la costruzione di uno yacht da 66 metri, una sorta di pronta consegna per l'armatore interessato. Con Ravenna, Ancona è uno dei poli italiani più importanti per la produzione di yacht. Uno stabilimento dedicato e specializzato per la produzione di mega yacht e di acquisire un brand molto forte come Isa, che durante lo sviluppo di tutti, diciamo così, e la costruzione sia parte tecnica sviluppa sia per la costruzione di mega yacht, ha dimostrato al mercato di avere un prodotto di alta qualità. Tra gli obiettivi di sviluppo la costruzione in area a cantiere di un cappannone da 110 metri per un investimento da 4 milioni di euro per mega yacht superiori ai 70 metri, un asset del lusso per pochi, anche in termini di produzione. Noi abbiamo intenzione di investire con infrastrutture, attrezzature specifiche del settore per poter costruire barche superiori ai 70 metri, perché oggi lo stabilimento non lo può fare. Quindi dobbiamo per forza investire per farlo. Ci crediamo in quel mercato perché ne siamo in pochi, ci crediamo e lo vogliamo fare. Sul fronte occupazionale dei 101 dipendenti ex Isa, ad acquisizione avvenute i lavoratori erano 85, 50 sono rientrati al lavoro, con la possibilità per altri 20 se dovesse andare a buon fine la terza commessa. C'è un accordo sindacale che è ben chiaro, che c'è un rientro dei 50 dipendenti per il primo anno di produzione e una possibilità che stiamo lavorando per l'acquisizione di una terza commessa per far entrare altre 10-20 unità.